La Russia va a censurare Facebook e social di Mark Zuckerberg. In particolare, un'autorità russa proprio di Internet ha deciso di bloccare il colosso social per eccellenza proprio a tutta la rete della Russia. Di ciò ci informa l'autorità che si occupa di questo attraverso un comunicato che viene ad essere diffuso proprio nel web, o meglio nelle diverse testate. Dall'ottobre del 2020, 26 casi di discriminazione contro i media russi e relative risorse informative da parte di Facebook. Per questo motivo, per il fatto quindi che, secondo questa fonte, Facebook andrebbe a discriminare i media russi, si sceglie di andare a censurare Facebook stessa. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e un cordiale salutone a voi da parte mia per quanto riguarda, diciamo così, una buona serata. Che mi auguro, viverà a tutti. D'Ariandro è tutto, narrato italiano, ciao a tutti.